salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi andremo a fare un adattamento che riguarda la freccia sinistra e adesso vi farò capire anche che cosa che nel momento in cui andiamo a mettere la freccia ci sta la possibilità di regolare l'intensità della luminosità della freccia che adesso vi faccio vedere vedete che adesso diciamo non è abbastanza forte come come luce adesso vi faccio vedere che con una codifica un adattamento andiamo lì aumentiamo la luminosità al massimo della freccia per fare questo come sempre abbiamo bisogno del nostro obd 11 che in questo caso già abbiamo abbiamo collegato e adesso vi faccio vedere la codifica vera e propria per fare questo come sempre ci vuole il nostro obd 11 eccoci qua come sempre vi consiglio di fare sempre una scansione di tutte le centraline se eventualmente ci da qualche tipo di errore qualche tipo di allarme andiamo qui andiamo a cancellare l'eventuale errore questa codifica non costituisce diciamo l'utilizzo dei crediti quindi indifferentemente dalla codifica ne andiamo a fare non viene ad utilizzare i nostri crediti quindi tranquillamente anche se non abbiamo i crediti possiamo fare queste questi adattamenti andiamo in nelle centraline centralina elettronica andiamo nella centrale elettrica no 09 adattamento e qua c'è tutta una serie di diciamo un altro sottomenu con altre funzioni andiamo o ci facciamo la ricerca nel menù oppure ci scriviamo qua scriviamo solo il luci configurazione delle luci ecco qua ecco qua dobbiamo proprio appena inizia c'è scritto qua blink leo chen andiamo a modificare questo valore qua questo qua è del faro di sinistra che adesso vi faccio vedere anche la funzione in questo momento 50 noi andiamo a mettere 127 prima di confermare la codifica vi faccio vedere che tipo di codifica stiamo facendo ecco qua una volta messa la freccia io adesso do a confermare la codifica guardate la luminosità della freccia confermo ah ci chiede di mettere il codice 31347 confermiamo vedete la freccia è molto più luminosa non so se siete riuscite a vedere perché comunque c'è il sole ed è abbastanza forte stamattina però vi posso assicurare visibilmente si vede molto bene questa codifica qua questa codifica qua come vi dicevo è solo per il faro di sinistra la stessa cosa noi andiamo a fare per il faro di destra dove c'è scritto la stessa dove c'è scritto la città iv scorriamo sopra e ci andiamo a trovare la stair 112 andiamo un'altra volta qui in dimoverta un attimo metti a fuoco perfetto in dimoverta c'è scritto 50 anche qua andiamo a mettere 127 confermiamo e usciamo e anche al fallo di destra quando andiamo a mettere la freccia la freccia è appena luminosità sia di giorno che di mattina poi una volta fatta la codifica fatemelo sapere l'effetto che vi fa e come vi pare ragazzi per oggi è tutto spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella ciao ragazzi al prossimo video grazie a tutti